Nuovo fine settimana, il tempo non è stabilissimo quest'oggi su Lecco, ma chiediamo a Daniele Berlusconi di Trebimeteo quali sono le previsioni per il fine settimana. Buongiorno a tutti, ci aspetto un weekend un po' variabile con ancora la possibilità di qualche pioggia nella giornata di sabato quando transiterà un impulso instabile che porterà fenomeni un po' più importanti tra Liguria e Piemonte, però anche la Lombardia sarà interessata, specialmente verso sera potrà fare qualche nuovo piovaccio. Poi domenica invece la giornata sarà più asciutta con tendenze schiarite anche ampie nel corso del pomeriggio e un clima che rimane ancora pienamente estivo, temperature massime sia sabato che domenica nell'ordine dei 26-27 gradi, qualcosina anche in più sulle basse pianure, quindi per essere già ormai a settembre inoltrato chiaramente si tratta di temperature ancora sopra le medie del periodo e anche la prossima settimana sarà caratterizzata ancora da un clima abbastanza caldo, anche se lunedì transiterà probabilmente qualche nuovo temporale verso sera. Quindi insomma il tempo un po' incerto, non arriva ancora l'autunno, però non ci sarà il caldo estremo delle ultime settimane? No, chiaramente caldo estremo di agosto e di luglio, è impossibile ormai in questo periodo, però appunto per il periodo in cui siamo, quindi praticamente inizia l'autunno astronomico il 23 settembre, quindi a breve, sicuramente sono ancora temperature sopra le medie del periodo. Grazie Daniele Berlusconi, buon fine settimana. Grazie.